Sono Chiara Villanova e frequento la classe Quarta B-Rim dell'Istituto Marco Fanno. Ho scritto la recensione del libro L'assedio di Troia di Theodor Candifatides. Durante la Seconda Guerra Mondiale, in un piccolo paesino greco occupato dai tedeschi, una giovane insegnante deve trovare il modo di intrattenere e distrarre i propri alunni, quando le bombe degli alleati iniziano a cadere attorno a loro. La signorina inizia quindi a raccontare la storia di una guerra molto più antica, quella tra Achei e Troiani, scoppiata dopo che Elena, moglie del re Acheo Menelao, fuggì col principe troiano Paride. Ad ogni bombardamento gli studenti ascoltano un nuovo episodio del poema e la storia di una guerra passata si intreccia alle esperienze di vita presente. I ragazzi capiscono che le emozioni che stanno provando, come la paura di perdere i propri cari, sono senza tempo. Sono vere anche a distanza di millenni.